Cerimonia di commemorazione del tragico eccidio avvenuto a Pievecchia l'8 giugno 1944 dove persero la vita 14 nostri concittadini. Si è svolta questa mattina giovedì 8 giugno la cerimonia di commemorazione dell'eccidio di Pievecchia. Presenti alla celebrazione oltre al vice sindaco di Pontassieve Carlo Boni, anche Regione Toscana e gli amministratori dei comuni di Firenze, Pelago e Reggello. Inoltre hanno partecipato le associazioni del territorio e Aurelio Frulli, vice presidente dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. La cerimonia ha visto protagonisti gli studenti delle scuole di Pontassieve che con musiche e letture hanno ricordato questa triste pagina di storia del nostro territorio, facendosi voce di chi ha vissuto e subito in prima persona quei tragici eventi.